Musica Buonasera e benvenuti al TG Prato Oggi era il giorno del vertice a Roma per il Tavolo Prato Presenti tutte le autorità cittadine e il governatore toscano Enrico Rossi Subito un pacchetto di interventi contro l'illegalità economica cinese A cominciare da incentivi all'economia e appunto lotta all'illegalità Per i particolari Nadia Tarantino Si è riunito stamani a Roma a Palazzo Chigi il Tavolo Nazionale per Prato Voluto dal Presidente della Repubblica Napolitano all'indomani della tragedia di Via Toscana Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, il Prefetto I parlamentari pratesi sono stati ricevuti dal Premier Renzi Che ha soltanto fatto un saluto e aperto i lavori Poi ha lasciato che a coordinare il Tavolo fosse il Sottosegretario Lotti A ricevere la delegazione pratese e anche i rappresentanti di ben sette ministeri Si è parlato di economia, si è parlato di lavoro, di sicurezza Della necessità di in qualche modo salvare il distretto pratese Non c'è più tempo da perdere, le risposte sono arrivate, sono state molte Soddisfatto il Sindaco Biffoni anche perché il Tavolo Nazionale per Prato Si riunirà a Prato già nelle prossime settimane, forse addirittura prima di agosto Prima dell'estate la presenza del Consiglio si è assunta con l'impegno di riconvocarlo Perché una serie di cose si sono ottenute già da stamattina Altre cose ci si sta lavorando, altre risposte devono venire Ulteriori richieste a parte nostra arriveranno L'idea è di rivedersi con lo stesso formalità, cioè con tutti i ministeri che erano presenti stamattina Entro l'estate, entro le ferie e probabilmente se è possibile organizzarlo direttamente proprio a Prato Rimane il tavolo quello per Prato-Città Sicura, il Ministero dell'Interno dove rimangano fermi Sono state ribadite forti, tutte le richieste erano già state fatte Ma qui stamattina sono stati coinvolti tutti gli altri ministeri che noi riteniamo fondamentali Per dare una risposta complessiva, a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Sanità Insomma tutte le altre questioni che interessano i nostri territori E il tavolo Prato vede soprattutto al centro la questione cinese, il distretto parallelo La questione dei dormitori all'interno delle aziende cinesi Ebbene il Governatore Rossi è tornato a rilanciare la sua proposta che tanto fece discutere nei mesi scorsi E' quella di dare una moratoria di sei mesi alle aziende cinesi irregolari Nadia Tarantino A Palazzo Chigi, al Tavolo Nazionale per Prato, si è parlato anche della necessità di trovare una soluzione Alla richiesta di casa da parte dei cinesi, degli operai cinesi Perché è proprio dalla casa che comincia il percorso di integrazione e di emersione E per affermare il principio di legalità ci vuole innanzitutto la casa Il Presidente della Regione Rossi è tornato su questo argomento E in particolare ha parlato di case per i cinesi dentro o subito fuori i capannoni Questo tavolo ha il compito di elaborare una strategia di interventi anche settoriali Che facciano emergere questa realtà pratese e portare del distretto delle confezioni Portarla su un piano della legalità in modo che diventi davvero una ricchezza per tutti Credo che bisogna assolutamente andare alla separazione tra il luogo di lavoro e il luogo di vita Bisogna tirare su un muro tra i due luoghi Poi che debbano essere vicini per ragioni produttive, per le modalità produttive particolari Del distretto, del macrolotto cinese E queste le conoscete voi meglio di me Saranno questioni che si risolveranno insieme all'amministrazione comunale Comune e provincia però non condividono e rilanciano con una soluzione alternativa Non soltanto del bisogno di casa ai cinesi ma anche ai cittadini pratesi Che cercano casa, che hanno grande difficoltà ad ottenere mutui Credo che questo progetto mette insieme una serie di opportunità e di vantaggi per tutti Sia per i costruttori pratesi che hanno difficoltà a completare i lavori Sia la banca che non sa se continuare a finanziare queste costruzioni oppure no E nello stesso tempo ovviamente si dà una risposta all'esigenza di tante persone che cercano casa Stiamo lavorando su questo Vogliamo vedere se arriviamo a dei primi risultati concreti entro breve tempo Perché insomma il tempo stringe Questo potrebbe essere un modo anche per dare una risposta All'abitazione di chi oggi, come per esempio una parte dei cinesi che vivono a Prato Vivono invece e lavorano nello stesso ambiente, cioè nei magazzini La proposta di Rossi, ma in genere quello che è uscito fuori dal tavolo di oggi Hanno provocato molte reazioni, pareri favorevoli e contrari Nadia Tarantino ha raccolto per noi anche l'opinione del sottosegretario Giacomelli Pacchetto economia, anche di questo si è parlato stamani durante la riunione del tavolo nazionale per Prato Che si è tenuta a Palazzo Chigi Una serie di provvedimenti, di strumenti che vogliono in qualche modo sostenere le imprese, le aziende È stato il sottosegretario Antonello Giacomelli a mettere in fila tutte le idee che sono già sul tavolo Che sono già operative a disposizione delle aziende del distretto Il desiderio del governo di corrispondere a quella che è stata la richiesta del sindaco Matteo Biffoni Certo ordine pubblico, certo rafforzare i controlli Ma anche politiche per lo sviluppo, per la ripresa, per il sostegno del distretto E rimane una straordinaria forza per tutto il Paese Quindi in sintesi noi abbiamo dato disponibilità a intervenire sia finanziariamente sia in termini organizzativi Uno per un progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti del distretto tessile sui mercati esteri In ogni tipo di manifestazione, di incontro, di progetto che gli operatori ritengano positivo Il secondo aspetto riguarda un processo specifico di accompagnamento delle piccole imprese del tessile al mercato americano In previsione dell'accordo che presumibilmente in autunno, comunque entro la fine dell'anno Il Ministero conta di siglare con gli Stati Uniti e che abolirà i dazi in entrata sul tessile europeo L'altro aspetto riguarda l'energia Ormai l'emendamento Biffoni è passato alla storia E il Vice Ministro De Vincenti sta lavorando a mettere in sintonia questo emendamento Che punta ad abbattere il costo dell'energia per i distretti Con l'idea del Presidente del Consiglio che è sempre più avanti Che vuole abbattere il costo per tutta la piccola e media imprese E inoltre, quello che più direttamente mi riguarda Insieme con la Regione presenteremo un bando Per ampliare la banda ultralarga nei distretti della Toscana Centrale E quindi anche a Prato E il Ministero insieme con il Comune di Prato Presenta un progetto che riguarda le cosiddette smart city Cioè la possibilità di sviluppare e incentivare L'ottimizzazione delle reti per l'energia ma anche per la comunicazione Partiamo alla cronaca Vi ricordate la rissa in via Nistri di metà aprile Ebbene è finito in manette un altro dei partecipanti Si tratta di un giovane di 22 anni che era sfuggito alla prima retata della polizia Claudio Vannacci E' stato arrestato dalla sezione catturandi della squadra mobile E un 22enne cinese accusato di aver preso parte alla rissa Che lo scorso 15 aprile andò in scena All'interno di una fitta camera abusivo di via Marianna Nistri Quando due gruppi di orientali si affrontarono con bastoni, coltelli e mannaie Il giovane era riuscito a sfuggire alla prima raffica di arresti fatta dalla polizia Che a maggio aveva portato all'arresto di altri nove connazionali In seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura Il 22enne è stato rintracciato ieri e subito arrestato A questo punto resta libero solo uno degli 11 partecipanti al violento fatto di sangue Nato in seguito ad una spedizione punitiva nei confronti del titolare dell'affittacamere Che non voleva pagare il pizzo Come evidenziato dalle telecamere interne all'appartamento Invece di chiamare la polizia Il proprietario dell'esercizio abusivo Tese una trappola agli aggressori Uno dei quali finì in ospedale in gravi condizioni Rapina a mano armata In una sala giochi di oste gestita da cinesi Il fatto è accaduto la sera dell'11 giugno Mercoledì ad agire è stata una banda di tre persone Che avevano il volto travisato Sono entrati all'interno dell'esercizio in via Scarpettini Quando erano presenti la titolare e un paio di clienti Che stavano giocando alle macchinette Uno dei malviventi ha estratto un coltello E con quello ha minacciato la donna Facendosi consegnare tutto quello che era presente in cassa In totale circa 3.000 euro Poi tre banditi sono fuggiti L'azione è stata repentina Non più di un paio di minuti Dopo l'allarme sono intervenuti i carabinieri di Montemurlo Che ora conducono le indagini E restiamo a Montemurlo Ma passiamo alla politica Perché ieri c'è stato il primo consiglio comunale De Lorenzini Bis Brunello Gabellini È Antonella Baiano del gruppo PD Il presidente del consiglio comunale di Montemurlo L'elezione è avvenuta ieri sera Nella prima seduta della nuova legislatura Anche Montemurlo Come poco prima a Prato Elegge una consigliera alla guida dell'Assemblea cittadina Non è però una novità dalle parti della Rocca In precedenza era stata Rossella De Masi Confermata assessore alla pubblica istruzione A ricoprire il ruolo di presidente del consiglio Seduta all'aperto nel giardino di Villa Giamari Voluta espressamente dal sindaco Mauro Lorenzini Che forte dello straordinario successo elettorale E del 62% dei consensi Ha voluto anche in questa occasione Marcare la vicinanza del comune ai cittadini Lorenzini ha presentato la propria squadra E il suo programma Lavoro, sociale, scuola e cultura I titoli dell'azione di governo Indicati dal sindaco per i prossimi 5 anni Il progetto della Banca Popolare di Prato va avanti Stamani l'iniziativa creditizia Ha avuto l'appoggio anche della Conf Commercio Servizio Banca Popolare di Prato incassa anche l'appoggio di Conf Commercio Stamani è stato siglato un accordo di partnership Tra i due enti Che ha come obiettivo la promozione del progetto Della costituenda iniziativa creditizia Tra gli oltre 2000 associati del sindacato di categoria Una collaborazione importante per Banca di Prato Che entro novembre deve costituire un capitale sociale Di almeno 10 milioni di euro Al momento siamo a metà dell'opera I sottoscrittori hanno superato quota 300 Tra persone fisiche e giuridiche Tutti convinti che Prato abbia bisogno Di un istituto di credito e espressione del territorio Oggi siamo qui Abbiamo siglato l'accordo con Conf Commercio E di questo ne siamo estremamente soddisfatti In quanto si unisce al nostro progetto Un'associazione che da sempre rappresenta Il fare di un gruppo di cittadini Diciamo che sono rappresentati a questa associazione Questa adesione dovrebbe agevolare La composizione del capitale sociale E portarci velocemente Verso la realizzazione di questo progetto Ecco siamo quasi a metà del cammino Forse l'abbiamo anche oltrepassata La metà Che appello possiamo fare ai pratesi Affinché sottoscrivano le quote L'appello che possiamo fare ai pratesi È quello prima di tutto Di condividere il progetto Che si concretizza col fatto Di valutare l'opportunità Di ridare un istituto di credito A questo territorio La nostra sarà non una nuova banca Ma una banca nuova Una banca del fare Una banca snella Una banca rigorosa Una banca del territorio Che investirà ogni centesimo Raccolto a Prato Su Prato Era l'ultima notizia Vi ringrazio per l'attenzione Vi auguro una buona serata E un buon weekend Grazie a tutti